Allora, insomma, veniamo da un periodo abbastanza di recupero, ecco, insomma, dopo tante parole negli ultimi anni, veramente, sembra il mercato si stia smuovendo. Qual è il vostro punto di vista? È qualcosa che può avere una base anche solita nel futuro? Qual è, insomma, la visione, secondo voi, del mercato, dei movimenti del mercato di questo periodo? Sicuramente il mercato si sta trasformando, questo non significa nulla di negativo, chiaro che però va analizzato per quello che sono i segnali che il consumatore ci sta dando, quindi ancora una volta il nostro messaggio è meno autoreferenziali, più in ascolto del consumatore. Quindi questo è il nostro obiettivo, facendo leva su quelle che sono, diciamo, le nostre caratteristiche di nicchia, quindi anime, horror, ma non solo questo, quindi anche produzioni locali e prodotti per la famiglia che in determinati momenti crediamo possano ancora funzionare. Allora, raccontaci un attimo alcuni dei titoli, tutti i titoli più importanti che avete presentato qui a Riccione e su cui appunto contate di più per i prossimi mesi. Ma sicuramente i due titoli su cui contiamo di più sono Talk to Me, che è un horror distribuito negli Stati Uniti da 24, un horror che si rivolge a un pubblico teen sulla possessione, quindi la rievocazione degli spiriti, che è fatto veramente molto bene, abbiamo avuto la possibilità di vederlo recentemente, è un ottimo prodotto, veramente un ottimo prodotto che si eleva a quello che pochi horror riescono a fare durante l'anno. Il secondo prodotto di punta che abbiamo nei prossimi sei mesi è Silent Night, qui dalla regia di John Woo, che torna a un action importante, girato veramente molto bene, adrenalinico, 90 minuti di adrenalina pura. Questi sono i due titoli di punta. Poi come dicevo prima, la parte famiglia, quindi family, con Boo e Theo e Zodì, che sono uno un film francese e l'altro un film europeo tedesco, di altissima qualità, sono due prodotti che crediamo possano dare un ottimo risultato. Per quanto riguarda l'anime? Per quanto riguarda l'anime abbiamo il Castello Invisibile, che è un prodotto che i fan ci stanno chiedendo da tempo, non abbiamo ancora annunciato una serie di altre acquisizioni che non possiamo ancora fare, per i soliti vincoli che vengono dal Giappone, però diciamo che i prossimi 12 mesi saranno sicuramente i 12 mesi in cui avremo più prodotto anime e nell'anticipazione abbiamo fatto vedere True Colors, che è un titolo di altissima qualità, ma non è l'unico, ce ne sono tanti altri, quindi stay tuned perché abbiamo veramente ottimi prodotti da lanciare. Perché chiudendo rapidamente sull'anime, il Giappone è sempre più di moda, diventa sempre un po' di riferimento, oramai di generazioni sono cresciute con il riferimento dell'anime e della cultura giapponese, quindi voi siete stati dei precursori della distribuzione, quindi immagino siete sempre più convinti ad investire in quello e vedete proprio una risposta di un pubblico che si allarga anche dal punto di vista generazionale, che apprezza quel tipo di titoli. Sì, sì, diciamo che la nostra azienda come capogruppo crede moltissimo, abbiamo fatto recentemente un'acquisizione di un'azienda leader in questo settore, in Inghilterra e Francia, che si chiama Anime Limited, quindi abbiamo un progetto di sviluppo europeo sul mondo anime molto molto importante, sia sotto un punto di vista di film, che ci ha visto protagonisti fino ad oggi, ma anche sotto un punto di vista di serie nuove, serie televisive che arriveranno, quindi sicuramente sia cinema, ma non solo, anche digitale, e ancora un video che è ancora un mercato molto forte, Anime per noi è sicuramente uno degli obiettivi più forti.